Celerità di scelta e coesione politica. Il Senato in passato ha fatto la propria parte approvando in tempi immediati le manovre estive. Adesso farà lo stesso. Tra poco proporrò alla conferenza dei capiruppo di approvare la legge di stabilità entro la settimana, una settimana prima dei tempi previsti. Credo che sia un atto doveroso condiviso da tutti.